Benvenuti nel canale Juventus Oggi. Il miglior canale di notizie della Juve su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità dalla Juventus. Un'idea molto ardita della Juventus è Eder Militao, il brasiliano del Real Madrid, sarebbe il giocatore più importante che la Juve vuole in difesa. Altro per realizzarlo. Dipenderà dai movimenti del mercato. Se il Real Madrid riuscisse a ingaggiare Milan-Kriniar, Eder Militao perderebbe il posto in squadra, perché ad Ancelotti piace di più il profilo di Milan-Kriniar. La strada sarebbe spianata alla Juventus per ingaggiare il difensore brasiliano. Il prezzo di Militao è alto, ma la Juve vuole avere una difesa brasiliana con Bremer e Militao. La Juventus vuole dare a Militao un ruolo centrale nel progetto. Tifoso, Eder Militao sarebbe il benvenuto nella nostra Juve? Cosa ne pensi di questo duo Militao e Bremer? Commento nei commenti.